Il punto della situazione sulle molisane di Serie D. Il Campobasso rischia seriamente di non iscriversi al prossimo campionato. Le collaborazioni che può assicurare la politica e l'ACE, ma la causa rosso-blu, sono sicuramente più piccole rispetto all'ingente massa debitoria che grava sulla società e che conta poco più di mezzo milione di euro. Un nuovo tavolo tecnico è stato convocato per lunedì 26 giugno, anche se viene da domandarsi quale possa esserne l'utilità. Si potrebbero convocare anche altri 100 tavoli tecnici, ma serve mettere subito sul piatto quantomeno il 60% del debito attuale. Altre riflessioni, come mai la situazione di estrema gravità contabile è stata scoperchiata solamente a giugno, cioè un mese prima della scadenza dei termini per la nuova iscrizione. In secondo luogo bisogna considerare la carenza di pagamenti della società rosso-blu per la stagione da poco chiusa. Facile ipotizzare come molti tesserati creditori possano anche maturare l'idea di inoltrare vertenza nei confronti del campo basso se le loro rispettive pretese non dovessero essere soddisfatte. La società, nella persona del presidente Perucci, sostiene che si sta lavorando per provvedere all'iscrizione al prossimo campionato. Di questo se ne può essere sicuramente lieti, ma la domanda che facciamo al vertice rosso-blu è chi pagherà i debiti, ma soprattutto quale altra società di Serie D ha un passivo così vasto come quello del campo basso? Inoltre vorremmo mettere in evidenza anche il confronto con la realtà nionese che nello scorso weekend ha celebrato i 50 anni di attività ininterrotta. Nel corso della festa tenutasi nella giornata di sabato scorso sono stati anche snocciolati i numeri del campionato ultimo. Il bilancio consuntivo della società Granata da approvare entro il prossimo 30 giugno è di 360 mila euro. Nella voce debiti c'è un ammontare di 38 mila, in quella dei crediti compare scritto 39 mila euro. Raccolti, crediti e debiti, l'Olimpia agnonese finirà per avere un utile di mille euro, sicuramente simbolico. Abbiamo però voluto elencare questi numeri per rappresentare come tra Campobasso ed Agnone ci siano anni luce di differenza nella gestione del denaro e come in Alto Molise l'oculatezza e la cautela nelle spese sia una filosofia impressa nella società. A fronte evidentemente di due modi di gestire diversi, aggiungiamo anche che divergono i risultati del campo. Ad Agnone un quinto posto, oltre ogni felice aspettativa, nel capoluogo un sest'ultimo posto con due allenatori diversi e un via vai di giocatori. Almeno questi sono stati i risultati di quest'anno. Rimane in bilico il titolo fresco di Serie D del Macchia di Sernia, un titolo che potrebbe fare gola a tante società che ambiscono a rientrare nei ranghi di quarta serie. Attualmente il titolo è fermo ed inutilizzato, anche se sono tante le relazioni che sta intrattenendo il patron del Macchia, Mariani, da poco è entrato a far parte anche dello staff dirigenziale dell'Isernia. Ultimo in ordine di tempo è stato un contatto anche con la presidenza del Venafro. Ad ogni modo Mariani rimane alla finestra attendendo un segnale utile e concreto da chiunque volesse provare a fare un progetto in collaborazione con il Macchia di Sernia.